Buongiorno a tutti, scommetto che vorrete sentirmi parlare di Inter Pordenone, ci arriveremo, ma prima bisogna parlare di Genova-Atalanta. Partita di ieri sera, ultima della sedicesima giornata di campionato, che ha visto la vittoria dell'Atalanta. 2-1, il Genoa era passato in vantaggio con Bertolacci con grande incazzatura di Gasperini che viene adette di tutti i colori alla sua squadra. Nella ripresa hanno recuperato, hanno segnato prima con Ilici, c'è poi con Masiello, quindi adesso questa Atalanta zitta zitta, cacchia cacchia, è lì a un punto dal Milan, quindi in ottava posizione a un punto dalla zona Europa League. Quindi nonostante stia giocando le coppe, nonostante abbia vinto il girone di Europa League, riesce comunque essere competitiva in campionate, adesso ha due mesi per dedicarsi solo ed esclusivamente al campionato, alla sfortuna tra virgolette che ci sono quei 15 giorni a gennaio in cui il campionato è fermo, però adesso ha 6-7 giornate in cui può dedicarsi al campionato e quindi saranno dolori per chiunque la deve affrontare perché non sarà una cosa semplice affrontare l'Atalanta adesso che non ha le coppe. Magari dopo che avrà le coppe potrebbe essere un attimino più stanca visto che non è che hanno tantissimi giocatori a disposizione e che comunque penso che a differenza di altre squadre all'Europa League magari ci tengono un attimino di più rispetto a un Napoli o appunto a una Roma e magari, no scusate una Roma in Champions, un Napoli o una Lazio, perché comunque è sempre una, per loro è comunque una bella competizione, il campionato quando sono salvi loro sono già felici, l'Europa League non è che ci partecipi spesso, erano 26 anni che non ci partecipavano, quindi attenzione a questa Atalanta. Bene, passiamo alla partita di ieri sera, tutti a dire a figura di merda, che schifo, eccetera eccetera. È vero, abbiamo fatto 0 a 0 col Pordenone, abbiamo pareggiato e vinto ai calci di rigore, tutto quanto, però guardiamo la formazione prima di dire e vabbè 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 vabbè, perché qualcuno dice eh abbiamo gli Juventini soprattutto dicono eh abbiamo pareggiato con sta squadra che pareggia col Pordenone, eh grazie tante. In campo non c'era Perisic, Icardi, Candreva, D'Ambrosio, Santon, hanno giocato solo Gagliardini e Vestino. Nagatomo l'ha spostato nella fascia opposta, cioè avevamo dentro otto giocatori che giocano raramente per non dire mai, quindi c'era in porta Padelli e non Andanovic. Come dicevo Nagatomo l'ha spostato sull'altra fascia, già schifo no, però fino all'arrivo di Spalletti ogni volta che giocava Nagatomo, aiuto, non potevo mettermi le mani nei capelli perché non li ho, però aiuto, adesso è arrivato Spalletti, Nagatomo si è messo a giocare decentemente, però l'ha spostato sull'altra fascia. Poi giocava Dalbert nella fascia opposta, che Dalbert ha fatto due partite e poi l'hanno tolto disperati perché si deve ancora abituare al nostro campionato. Centrale Ranocchia, insieme a Scrignac, che era l'altro titolare, e quindi noi quando gioca Ranocchia, è vero che adesso con Spalletti sembra sia rinato anche lui, tra virgolette, per ora, però è sempre Ranocchia. Centrocampo, come ho già detto, c'erano Vessino e Gagliardini e sulle fasce c'erano due giocatori che centrocampisti non sono, sono più comunque giocatori che puntano ad attaccare, che erano Cansello e Caramò. In attacco giocavamo con Pinamonti, giocatore della primavera, ed Eder, che poverino, gioca 5 minuti a partita quando ogni tanto si degna di farlo entrare. È vero che è un titolare nazionale, però non gioca mai. Quindi giocavamo con una formazione che era inedita, un modulo inedito che era un 4-2-4, non lo so, comunque non era un 4-4-2, o un 4-4-2 che non abbiamo mai utilizzato. Affrontavamo una squadra che faceva la partita della vita, che comunque ha eliminato il Cagliari, che non è che proprio ha eliminato Forlimpopoli, in casa loro. Quindi è normale, è normale che rischi. Infatti Spalletti era incazzatissimo alla fine del primo tempo, solo che non è che li può cambiare tutti e mettere... Quindi ha messo solo Brozovic per Pinamonti e dopo si è vista un po' la differenza. Loro si hanno detto che hanno preso il palo. No, hanno fatto una gran parata a Padelli. Padelli è andata a togliere dall'angolino la palla che è terminata sullo spigolino esterno del palo. Poi l'abbiamo preso anche noi il palo per il resto. Poi si hanno avuto quell'occasione che l'ha spedita al terzo anello e un altro tiro da fuori. Però complimenti a loro, ci mancherebbe. Abbiamo fatto la partita della vita come ci si immaginava. Hanno onorato i tifosi che a 30 pullman, sentivo, sono venuti da Pordenone, quindi complimenti anche a loro perché costo freddo eccetera. A Pordenone saranno abituati al freddo, quindi magari a Milano si sono anche riscaldati. Però ripeto, piano, calma. Mamma mia! Vediamo adesso ai singoli. Allora, se dovessi dare giudizi se fossimo a scuola, primo quadrimestre, quello che è. Allora, Padelli promosso. Cioè ha dimostrato comunque di essere un buon sostituto di Andanovic. Ha fatto il suo dovere, ha parato due rigori, quindi nulla da dire. L'altro l'hanno spedito a raggiungere il pallone di Zaza degli ultimi europei. Vabbè. Poi D'Albert da rivedere. Sì, ha fatto qualcosina. Non è ancora... Boh, non so se dire pronto. Però non... Boh, vabbè. Poi per quanto riguarda Cancelo direi più che sufficiente. Direi che è un giocatore su cui spalletti può fare affidamento ogni tanto per far rifiatare il povero Candreva che corre praticamente 12-13 chilometri a partita. Quindi se magari ogni tanto sul risultato già acquisito, eccetera, vuole metterlo dentro un quarto d'ora, venti minuti, danni non li fa. Anzi, può fare solo bene. Caramo ho paura che mi stia diventando un altro Nianga. Perché ieri ha avuto cinque occasioni da gol e sbagliate tutte. Alcune anche clamorosamente. Tirando addosso al portiere, tirando l'alta. Bravo nei tiri da fuori perché ha tirato ancora anche ieri un tiro da fuori. Il portiere è stato obbligato a metterlo in calcio d'angolo. Però sottoporta deve essere più cattivo, eccetera. Non è ancora quella cattiveria sportiva, si intende. Non che deve entrare a spaccare le gambe. Pina Monti purtroppo bocciato, mi spiace dirlo. Facevamo molto affidamento su questo ragazzo, ma mi sa che forse è meglio se a gennaio lo diamo in prestito. Cioè se possiamo prendere un attaccante, diciamo non chissà chi, ma comunque un giocatore che può fare il vice Icardi tranquillamente e ha un minimo di esperienza e diamo Pina Monti in prestito a qualche squadra di B.A. o B. per fargli fare veramente le ossa, ma che lo facciano giocare perché sennò è inutile, perché altrimenti è un problema. Per il resto, vabbè, Gagliardini e Vessino con Pitino erano un po' scazzati. Brausovic anche lui era un po' scazzato. In un momento si è vista la faccia che diceva, era come dire ma questi cacchio sono venuti qua a fare, cioè che palle, non mollano un attimo, cioè c'era proprio quella faccia lì così e poi lui entra sempre come si sveglia, perché ieri si è mangiato un gol sul passaggio di Karamok che è abbastanza clamoroso. Perisic come al solito era triplicato, quindi riusciva lo stesso a crossare e poi ha avuto anche lui quell'occasione e l'ha tirata fuori di 10 cm, cosa che da lui non ti aspetti, proprio perché comunque è difficile. Arrivi dalla partita con la Juve in cui hai portato a casa un punto pesante, eccetera. Ti trovi ad affrontare una squadra di Serie C, capisco che le motivazioni, eccetera, vanno a farsi benedire. In più giochi con una formazione inedita, con tanti giovani, giocatori che non hanno mai giocato assieme e partita che hai potuto preparare in due giorni, con una formazione inedita. Quindi è capibile, figura di merda, va bene, continuate a dire figura di merda, che cavolo vi devo dire. Vedremo domenica, sabato alle 3 con l'Udinese, se facciamo ancora una figura di merda andiamo avanti con il filotto che stiamo facendo, con la formazione titolare, si intende. Vedremo, però ripeto, piano con le parole, cioè guardare nel complesso le cose, non solo guardare Inter-Pordenone 0-0 che schifo, no, perché non era l'Inter, era una squadra sperimentale, era una mezza primavera, chiamatela come volete, cioè Pinamonti 19 anni, Canselone a 20 o 21, Dalbert uguale, cioè piano. Se giocavamo con la formazione titolare e facevamo 0-0 sì ero incazza, ero io il primo a essere incazzato, ma così succede. In Inghilterra ci sono squadre di quarta categoria che eliminano squadre della Premier, quindi succede, che vi devo dire. L'anno scorso due anni fa lo Spezia ha eliminato la Roma, cioè ha eliminato, non sono passati ai rigori, sono stati eliminati ai rigori, quindi succede, c'è poco da fare, però ci sono delle motivazioni ben precise, che poi dopo uno vede Inter-Pordenone 0-0 che figura di merda, va bene, ci sta, però andiamo anche a vedere le cose. Per me questa partita è servita molto a spalletti per capire quali sono i giocatori che sono da tenere, quali sono i giocatori che si possono dare in prestito tranquillamente per prenderne degli altri e quali sono invece i giocatori che magari anche se li vendono per prendere, per fanno un sacrificio a venderli per prendere qualcun altro ben venga, perché purtroppo hanno dimostrato in questo momento di non essere da Inter. Io non ne vedo, a parte Pinamonti, ve l'ho detto, ma è un ragazzo giovane che si potrà fare, quindi lo puoi dare tranquillamente in prestito. Gli altri aspetterei, perché sennò facciamo come con Coutinho che adesso è diventato un fenomeno, da noi sembrava un giocatore normalissimo come poteva essere Kovacic e adesso vale 100 milioni o almeno vogliono pagarlo così tanto certe squadre. Adesso la cosa importante è tenere il Perigis visto che lo vogliono tutti e lo Skriniar, quello è basilare a gennaio e poi dopo ci sarà da resistere anche a giugno, ma dipenderà molto da noi, se arriviamo in Champions problemi non ce ne sono. Bene, ho parlato anche troppo, vedremo stasera il Milan col Verona cosa combina e soprattutto Sampdoria Fiorentina, sono curioso di vedere chi passa perché è veramente una partita molto ma molto interessante. Niente, 12 minuti e 34, direi che ho parlato anche a sufficienza, ho parlato troppo di Inter ma ci voleva, cioè dopo Inter-Pordenone 0-0, era giusto fare le giuste considerazioni, quindi le ho fatte, ho detto la mia, spero che qualcuno commenti, non commenta mai nessuno, non siate timidi, cioè non mando via nessuno, se uno non è d'accordo me lo scrive. Ripeto, se siete tutti tranquilli, onesti ed educati, io accetto tutte le critiche possibili, se uno mi dice 6-1, 6-1, 6-1, senza dare una motivazione solo perché deve fare il leone da tastiera, mi dispiace ma o lo blocco o lo denuncio, cioè non ci sono problemi. Beh, vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao!